Partita delicatissima per Pallacanestro-Biella. La sconfitta partita Pistoia in settimana non ha portato particolare amarezza, essendo un campo proibitivo su cui comunque poche concorrenti alla salvezza possono fare punti. Domani però al Forum, palla 2 alle 18, arriva la Becari-Piacenza e i punti in paglio valgono idealmente doppio. Gli emiliani sono terzultimi, con due soli punti di vantaggio sulla stessa Biella. Con una vittoria casalinga, i rosso-blu aggancerebbero la Becari, con il vantaggio di due partite da recuperare e non impossibili da vincere contro Trapani e l'Urania Milano. I calcoli vanno però fatti con estrema parsimonia. Prima c'è una partita da vincere, possibilmente con più di 4 punti di scarto, di modo da avere la differenza canestri favorevole contro una diretta concorrente alla corsa play-out e sempre considerando Orzinuovi ormai condannata alla retrocessione diretta. Piacenza è malmessa. Nelle ultime settimane coach Federico Campanella ha perso definitivamente due pedine fondamentali del suo roster, già di per sé non particolarmente lungo. Sia Perin che Davide Bonaccini sono stati sottoposti a intervento chirurgico e hanno chiuso la stagione. Il primo per una lesione al menisco, il secondo al legamento del ginocchio. In settimana è arrivato un altro Bonaccini, Federico, da Reggio Emilia in Serie A. Buon giocatore, ma ancora da calare nel contesto. Piacenza è quindi contata e semidisperata. Biella può sentire l'odore del sangue. I punti di forza sono l'eterno Nick Raivio, cecchino affidabile, e i muscoli di Anthony Morse, l'anno scorso avarese in Serie A. Nel roster anche l'ex Daniel Donzelli, che conosce bene coach Zanchi. Biella potrebbe quindi centrare una vittoria importante e parte coi favori del pronostico. La buona lena degli americani Hasbrook e Davis, unita alla solita buona percentuale della lunga, potrebbe regalare una domenica piuttosto tranquilla, cosa che non accade da diverso tempo in città.